Il centro storico si sta svuotando sempre di più, ancora negozi che chiudono. Il post, anzi un vero e proprio grido di dolore, è stato lanciato sul gruppo Facebook Sei Filienese Se, da un cittadino che tra l'altro è un commerciante. Subito dopo la pubblicazione del post si sono scatenate tante, tantissime reazioni. Un dibattito che, con il passare delle ore, si fa sempre più acceso. Insomma, l'argomento è molto sentito dai filienesi e non solo dai commercianti. C'è chi chiede l'organizzazione di più iniziative per rivitalizzare un centro che ormai sta allanguendo, chi invoca l'intervento dell'amministrazione comunale, chi accusa i commercianti di non essere in grado di adeguarsi al cambio dei tempi. Ma rimane il fatto che uno dei centri storici più belli del Valdarno è tristemente vuoto e nessuno sembra, per il momento, avere trovato la ricetta giusta per uscire da questa situazione. La sindaca di Filienese, Giulia Mugnai, dal canto suo, più volte chiamata in causa nel post, dichiara «Bisogna essere sinceri, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ma qualche idea noi ce l'abbiamo», dichiara Mugnai. Agevolazioni per riaffittare fondi sfitti, arredi, nuovo mercato, viabilità e venti. Presto metteremo tutto nero su bianco. Nel frattempo termina la sindaca. L'amministrazione comunale ha deciso di recarsi in visita nei negozi del centro, per raccogliere gli umori e magari anche qualche proposta. L'amministrazione comunale ha deciso di recarsi in visita,